Pensiamo alla cena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. E la morale? Chiara. E non rigida, eh? Quella non è rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? Eh, il sacro del matrimonio, la fedeltà, Gesù è, in questo è chiaro, eh? La parola è adulterio, eh? È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive. E poi, ma, incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato, scatti la prima, le pietre. Ha mancato la legge, Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Grazie. Grazie.